Con una concelebrazione eucaristica nella Chiesa Cattolica della Santa Croce di Nicosia, presieduta dal Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, si è aperto a Cipro il Meeting Internazionale di Preghiera per la Pace, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. L'incontro, dal titolo La Civiltà della Pace, Religioni e Cultura in Dialogo, si conclude martedì 18. Alla messa hanno assistito rappresentanti delle Chiese Cristiane e delle comunità ecclesiali. Nella sua omelia il Cardinale Sandri ha ribadito che accoglienza, pazienza e speranza sono le vie sicure per coltivare il vero talento costituito dalla religione e ha ricordato che tutte le religioni sono una straordinaria forza vitale per l'umanità, a condizione che ciascuna religione sia sempre aperta alla verità. Infine il prefetto per le Chiese Orientali ha detto che il cristianesimo è un dono per l'Europa e per il mondo, visto che tende allo sviluppo di ogni uomo e di ogni donna nella sua vocazione storica ed eterna. All'incontro prendono parte più di 200 leader religiosi da tutto il mondo.